In questo settore noi comunicatori italiani siamo all'avanguardia in Europa o abbiamo ancora della strada da fare? Siamo all'avanguardia, lo testimonio dei riconoscimenti internazionali, a cominciare dalla giornata di oggi, 18 città in contemporanea e in diretta, che è un fenomeno direi unico nella pubblica amministrazione. Siamo all'avanguardia per passione ma anche per capacità di innovare il dialogo col cittadino e lavorare alla sua soddisfazione. Siamo invece indietro dal punto di vista del riconoscimento legislativo. L'Italia ancora non riconosce la centralità della comunicazione, ogni riforma senza comunicazione resta al palo, eppure siamo ancora fermi ad una legge vecchia di 20 anni che è nata quando ancora il web non esisteva. Dobbiamo andare in questa direzione, la chiamiamo legge 151, la legge che supera la 150 e che dà un riconoscimento a queste nuove professionalità che sono assolutamente indispensabili per far funzionare l'amministrazione e ricostruire la reputazione dello Stato. Oggi si è parlato di linguaggio felice, la velina tradizionale è un lontano ricordo. Come si parla al cittadino? Come lo si rispetta in quanto tale? I social sono una piattaforma straordinaria, però giovanissima, quindi ha ancora bisogno di rodaggio e di ancoraggio alle social media policy, che sono dei patti che si fanno con l'utente. Si parla pensando di raggiungere il servizio, noi parliamo di passaggio dalla risposta alla prestazione, dall'informazione al servizio. Dare un'informazione è un fatto importante, ma afferisce alla cortesia, dare un servizio invece afferisce alla soddisfazione del cittadino. Quindi il problema è trasformare i social in un mezzo che realizzino la trasparenza del Freedom of Information Act, perché attraverso i social si superano anche le formalità della procedura del FOIA, i tempi di attesa, il social consente di avere una risposta subito e che va a tutti.